Facciamo entrare Tyson e sicuramente non andrà a finire male, già lo sappiamo Mi inventerò qualcosa per aprire le porte Quindi Eccoci C'è il web della banca, ma una luce non ce l'abbiamo Che grande luce, oh, no, ne fa troppa, no, è accecante Scommetto che questo touchscreen apre le porte Quale touchscreen? Quale touch, questo? Uh, eccolo qua Ci siamo Oh, ciao, bell'attiso Devo riconoscerlo Per essere un ex poliziotto Lo usa a buon gusto È quello È un tavolino da caffè da 24.000 dollari Hai presente quelle riviste per ricchi che in realtà nessun ricco legge? Io la leggo invece, a differenza di voi due barbari, so apprezzare le cose raffinate Dai, forza, usa il brutto e apri il deposito Ok Ok Come il cazzo è? Merda Bella domanda Quindi? Ok, cerchiamo tutti Il deposito deve essere qui da qualche parte Io spaccare tutto qua dentro sta casa Ah, va Così facile Ah, ma c***o, va Oh, salve Cosa mi dice? Che da bambino Dohs leggeva parecchi fumati? Bene, vediamo un po' Ok Wow, ragazzi Vediamo che funziona Così dovrebbe andare Ok, brutto, al lavoro Non resti a guardare Non è che ha bisogno di incoraggiamento È bello guardarlo però, ragazzi Ah, io pensavo che trapanasse Non c'è no Trova le combinazioni, quindi così ci potrebbe mettere Una vita Ricordi la mia ipotesi pessimistica? Sì Ecco Va bene, stanno arrivando Dove arrivano però? Ci sono delle armi nel ufficio di Dohs Preparami un benvenuto a base di trappole, esclosivi, tutto quello che hai Eh sì, come? Non ce li ho gli esclosivi Picc***o c***o Dobbiamo tenerli impegnati Allora, cosa abbiamo? Carica estrusiva Mina laser Eh già Carica estrusiva cos'è? C4? No, ci bastano le mine È meglio tenerci quelle per combattere Eh, ma da dove vengono c***o? Dimmelo Sono qui Sono qui Al mio segnale irruzione Assaltatori Se ci spero Qui possiamo tranzare ed eliminare i vestiti Continuate a cercare Vado a dare un'occhiata Occhia aperti Facciamola a c***o ragazzi Controllate laggiù Sono due Porco c***o ragazzi Sì, li avete controllato lì? Come c***o sta? Se c'è qualcuno qui dobbiamo trovarlo Hanno già visto Vabbè Ciao ragazzi Detettivi abbastanza simpatici Oh c***o Ma perché nei film Fanno vedere che si difendono Chiede dei divani e le cose Quando Porco cane Che non servano un c***o Oh Avanti Prendetelo È a terra Fermatelo Crepa Su Morto Spera Sperategli C***o è che mi servono le granate C***o è andato Hai vedo altri proiettili Wow Buona sapesse Buona sapesse Buona sapesse Oh Merit Chi ti ha messo? Ma Marta non è buono Clepa dai Perfetto Quanto tempo manca Quanto tempo manca per il ruolo E tagli Pronti Eccone altri Non vedevo l'ora Se hai un mirino infrarossi È il momento di usare Bene Mirino infrarossi ragazzi Mirino infrarossi Ce l'abbiamo Mirino Appunto Rosso Compatto No Migliorato No Non ci serve Ah Un c***o Mirino laser Niente Casante Niente Per questo invece Ce l'abbiamo qualcosa Penso di sì Per questo No Forse è questo Ce l'abbiamo uno Ragazzi No Eccolo qua Trovato ragazzi Lo mettiamo E andiamo Controlla l'armadietto Delle armi Nell'ufficio di Tos Ho messo ragazzi Ho messo Vado a controllare Un po' un casino però Cercate dappertutto Controllate ragione Continuate a cercare Eh ma Scumino si devono avvicinare Eh Questo ho sbagliato io Per la C'hanno le torce Ma c'erano Ho fatto una grande cazzata A farlo Cavolo Porco cane Come c***o faccio così Meglio farlo così E vaffanculo Allora Prepa su Curami però Curami C'è lei medikit Lancia altri medikit Lancia altri medikit Lancia Tocca spara Oh Oddio è entrato dentro Che schifo ragazzi Quanti ne rimangono Quanti ne rimangono Quanti ne rimangono Lui la sola è rimasto Oh niente ragazzi Riuscirà a lisciarlo questo da Bene Aiaiaiai Ahiaiai Aiaiai Aiai Arno Allora no mortacci sua è andata male non abbiamo finito io non ho finito io ti credo lo sai davvero semplifichiamo le cose sono santa rosata non è lontano si so dov'è allora devi veniva a cercarmi eh che tancazzi mi ho fallito certo che sto samsung qua perché era un samsung sicuramente c'era una batteria che durava tanto è lungo è durata giorni ma se ci tuffiamo da qui che bella scena ragazzi aia no se inca se inca se inca se inca aia ma siamo matti Oh cazzo! Eh si madonna! Oh ciao ciao! Oh mio dio ricomincia... Ma che cazzo è oh! Bellissimo quella scena! Sì, lei è già morto Porco cane Ma lo scopiamo termico Bella con candelli avanti, andiamo, andiamo, scondiamo Oh, questo è un po' vivo Sto arrivando Vai, su Che cazzo stanno Eccoli Muori, c'è stanato Ciao Andiamo, 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 andiamo via Cazzo stanno E vabbè Come cazzo faccio Dai, ho altri tre proiettili Ok Oh, male No, che cazzo è? Oh, no, ho tolto il coso Per fortuna, ragazzi Per fortuna Oddio Nic Andiamo Ho capito Ma Datemi i proiettili Datemi Datemi quei fottuti proiettili del cazzo Dove stanno? Anche là Vai Andiamo via Sono Dyson Vai, vai Tu, devi tenere il bacchetto Non lo so È messo molto male Perché lei sa che è il medico con lui Guido io Tu aiuta a casa Ehi Ehi Ehi, ma dove vai? Andiamo a trovare To Come fai a sapere dov'è? Me l'ha detto lui Oddio, ragazzi Il moro Dyson Mi dispiace un bordello per lui Bene Anche questo episodio è andato Con un po' di imprevisti in più Però è andato Quindi noi ci vediamo ragazzi Nel prossimo video Con il gran finale Di Battlefield Hardline Episodio 10 L'ascito Bene Bene Non vedo l'ora Non vedo l'ora Quindi un saluto Vi ricordo di mettere un mi piace Di commentare Di condividere il video E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao ragazzi